finora abbiamo usato questa parte per intercettare, tagliare ora alcuni, soprattutto quando sono grandi, sono grandi come questo caso sono bilamati, cioè tagliano anche dall'altra parte ma per l'uso che facciamo di potrebbe anche essere non volare una corte semplicemente, cioè senza fila uno, due, da l'altra parte qui è importante stare stretti un peso guardate il piede mio sinistro avanti aggancio qua sotto faccio la scena proprio così aggancio con la scena estrada quando vieni quindi uno è Grazie a tutti.